Avvocato Giannelli, il settore bancario sta vivendo un momento di grande trasformazione e di evoluzione. Come può uno studio legale restare al passo coi tempi e riuscire a capire le esigenze dei propri clienti? Allora, credo che la parola d'ordine per un avvocato banking moderno sia la poliedercità e la capacità di passare da un finanziamento ad un'operazione di bond, a una cessione di attivi, crediti, ad una cartonarizzazione. Oggi i clienti esigono flessibilità, capacità di vedere le operazioni nel loro complesso, nella loro totalità e anche proporre soluzioni alternative, quindi quello che noi facciamo partendo dai giovani è quello di consentirgli di vedere più cose diverse, e di crescerli in un gruppo che fa tutto lo spettro dell'attività del debito, lato senso considerate, in modo tale di essere pronte a fronteggiare questo tipo di esigenze. Le operazioni sono sempre meno standardizzate e sempre più tailor made, soprattutto quelle di alto profilo ed è questo quello a cui puntiamo in generale. Grazie Avvocato.